Quinto capitolo Diana Panico. La scadenza è sempre più vicina. Sono stata una stupida. Ho tergiversato, troppo impegnata a integrarmi e a cercare di non litigare con Arianna. Accendo il portatile che mi ha regalato mia madre. Ho il cuore a mille. Come ho fatto a dimenticarmene? Panico totale. Le parole scorrono veloci sotto i miei occhi. Cerco qualcosa, qualche informazione, nei vecchi documenti che mia madre ha lasciato sul pc. Qualcosa su di lei, sul suo lavoro, qualsiasi cosa. Fattura dopo fattura scavo tra quelle scartoffie, con la speranza di trovare qualche informazione utile. Panico incontrollabile. Sembra che mia madre non abbia lasciato nulla di interessante nel pc. È quasi come se mancassero dei file. C'è qualcosa che non va. Ero sicura di averci trovato alcuni strani documenti qualche anno fa. Tutto sparito. Non avevo avuto il coraggio all'epoca di leggere. Ma questa volta è per una causa più importante. Questione di vita o di morte. Fermi tutti. Qualcosa cattura la mia attenzione. Mentre cerco disperatamente tra le centinaia di cartelle, trovo per puro caso il mio certificato di nascita. Il file è in alcuni punti illeggibile, probabilmente perché si tratta di una scansione fatta non proprio a regola d'arte. Ma c'è un dettaglio in particolare che è ben visibile. E non posso fare a meno di sgranare gli occhi. La mia bocca si asciuga. Il battito accelera. Il cognome. Il cognome è sbagliato. Non è quello il mio cognome. Non lo riconosco. Sono stata registrata con un cognome diverso. Perché? Perché mia madre non me ne ha mai parlato? Cosa diavolo è successo? La testa inizia a girarmi. Diana Larussi. Che cavolo è Diana Larussi. Forse non sono io. Ma la data di nascita coincide. Mia madre coincide. Non ha senso. Non è Larussi il mio cognome. Perché non ne ho mai saputo nulla. In quel momento Arianna spalanca la porta e io chiudo il portatile alla velocità della luce. Che fai, guardi porno? Scherza lei, che ha notato il mio gesto. Scoppio era una risata nervosa, sperando di sviare. No, stavo scrivendo per quel documentario di cui vi parlavo. Sai che mi vergogno a farti leggere i miei testi quando non sono finiti. Arianna si avvicina, curiosa. Dai, fammi sbirciare giusto qualcosa. Giuro che non rido. Si allunga cercando di riaprire il portatile, ma io mi ci paro davanti come se stessi difendendo la mia stessa vita. E, beh, in un certo senso… No! Urlo, forse con troppo vigore. Arianna è stranita, quasi spaventata. Scusa, aggiungo poi. Sai come sono. Giuro che quando è pronto sarai la prima. Quelle parole sembrano essere sufficienti, perché Arianna ride e si volta per andarsi a sistemare sul letto. Sì, ma voglio essere la prima, eh? Mi volto di nuovo, mettendomi le mani fra i capelli. La storia non finisce qui. Perché è così piacevole sentire l'acqua calda che scorre sulla pelle? Ho sempre cercato una risposta a questa domanda, ma non ho trovato nessuna che mi soddisfi davvero. E così, ancora una volta, mi ritrovo seduta nella doccia, le gambe contro il petto, circondate dalle mie braccia, mentre il getto bollente mi colpisce forte per poi scorrere verso il basso. Poggio la testa sulle ginocchia, lasciando che anche la nuca si goda la stessa sensazione. Ho perso la cognizione del tempo. Saranno ore che sono seduta qui. Forse giorni. Però una certezza ce l'ho. Finché resto chiusa in questa prigione di plexiglass, nessuno può vedermi. O cercarmi. O sulla pelle. Sento l'acqua che mi scivola in bocca. Ha un sapore dolciastro. Non faccio in tempo a sputarla fuori che la bocca si riempie ancora e ancora, senza sosta. Vorrei aumentare la temperatura, ma non riesco a raggiungere il rubinetto. Forse non dovrei. È già abbastanza calda così. Eppure, mi sembra quasi di non sentirla più. Poi la musica si interrompe. La cassa si è scaricata di nuovo. Ho dimenticato di attaccarla a una presa. Improvvisamente, mi rendo conto che mi serviva. Era lì per un motivo. Non è vero che non la stavo ascoltando. Stavo solo facendo finta che non mi importasse. Che non ne avessi bisogno. Che il rumore dell'acqua fosse tutto. Tutto quanto. A gambe incrociate davanti allo schermo, fisso quel cognome, cercando di riportare alla mente qualche ricordo che magari ho cancellato. Ma niente. Il mio cervello non collabora e fissare per ore il monitor non serve a molto. È notte fonda e Arianna già dorme, come al solito. Io proprio non ci sono riuscita. Ci ho provato e riprovato, ma quel nome continua ad apparire forte e luminoso ogni volta che chiudo gli occhi. E non mi sembrava proprio il caso di infilarmi nel suo letto stavolta. Non dopo quello che è successo l'altra mattina. Non so cosa mi opprime di più. Se l'idea che mia madre mi abbia tenuta nascosta per così tanti anni una cosa così grande, o il fatto che Arianna si sia comportata come se non fosse successo nulla. La tentazione di stringerla e dimenticarmi di tutta questa merda è forte. Ma poi mi costringo a osservare di nuovo lo schermo del computer che, per quanto sembri assurdo, sta lì a ricambiare il mio sguardo senza spiccicare parola. Maleducato. Nonostante tutto, forse dovrei parlare con mamma. Dovrei dirglielo, chiederle cosa significa, domandarle perché cazzo non mi ha detto nulla in diciannove anni. Ma tanto so che, probabilmente, non riceverei nemmeno la metà delle informazioni di cui ho bisogno. Probabilmente litigheremmo e basta. Quindi, tanto vale arrangiarsi. Sì, ma come? Perché mai mia madre non mi ha detto che sono nata con un cognome diverso? Ma soprattutto, perché ha dovuto cambiarlo? Vuol dire che mio padre non è davvero mio padre? O è stato mio padre a cambiare cognome perché era un criminale in fuga? Quest'ultima ipotesi spiegherebbe molte cose. La russi. Eppure, già sentito, già visto. Ma dove? È come se scatenasse dentro di me una serie di ricordi sfocati e poco chiari. Non riesco a mettere insieme le immagini, i suoni, le sensazioni. Non riesco a dargli un luogo o un tempo, ma so che significano qualcosa di importante. Lo sento. Per quanto mi sprema le meningi, quei pezzi rimangono fluttuanti nell'eco della mia immaginazione. Magari non sono niente di importante, ma il mio desiderio incontrollabile di dar loro un significato mi spinge a cercare ricordi fasulli, ricostruiti dal mio inconscio bisognoso di informazioni. È indebito di sonno. A fatica chiudo il portatile. So che non serve a niente continuare a fissare quell'inutile schermo luminoso. Domani devo alzarmi presto e non posso permettermi un'altra notte in bianco. Sono stufa di addormentarmi in classe. Non devo essere di gran compagnia per Chiara, che invece si impegna tanto per fare amicizia con me. Chiara. Magari con lei potrei parlare di questa cosa? Arianna non capirebbe. Mi direbbe di chiedere a mia madre. Luca non ci penso nemmeno. Ma forse Chiara. E, pensando a come potrei dirglielo, mi addormento, cullata dall'eco di un ricordo che dorme già da tempo. Che cavolo ci facevano quei file dentro il tuo pc? Chiara e io camminiamo lungo il viale alberato vicino alla nostra università. È una bella giornata, nonostante sia quasi dicembre. Il clima non è così freddo come mi aspettavo. E nemmeno la nebbia di cui parlano sempre tutti si è ancora fatta vedere. Alla fine è sempre tutto meno peggio di come viene descritto. Era di mia madre col computer. Non hai visto quanto è vecchio? Ridacchiamo, masticando il panino molto poco sano preso a un chioschetto nei dintorni. No, è che non poteva permettersi di comprarmi un portatile tutto mio, quindi ha deciso di darmi il suo. Però deve essersi dimenticata di avere un archivio anche lì. Chiara se la spassa con il suo panino grasso, unto e pieno di schifezze. Ma come fa a essere così magra e mangiare così... male? E tu non sei arrabbiata con lei? Dovrei? Conosco la risposta, ma non sono sicura di volerla sentire. Fisso le fronde degli alberi e mi chiedo come facciano le foglie a rinascere da quei rami totalmente spogli. Poi mi rispondo che sarebbe bastato studiare scienze al liceo per conoscere la risposta. Io sarei incalzata nera. Non ti ha detto niente per tutto questo tempo. Faccio spallucce. Sono cintura nera di spallucce, io. Avrà avuto le sue ragioni. Forse non è nemmeno una cosa così incredibile. Forse ha pensato che non fosse importante. Non lo so. Chiara si ferma, costringendomi a fare lo stesso. Quindi tuo padre non è davvero tuo padre? Sbuffo, dandone la schiena. A parte che non vedo mio padre da anni. Non andiamo molto d'accordo. No, sono sicura che non sia questo. Forse ha dovuto cambiare cognome perché è un fuggitivo. E io ovviamente ho dovuto fare lo stesso. Non mi stupirebbe. Riprendo a camminare. Le stringhe delle mie scarpe sbattono contro l'orlo dei jeans. Non ho voglia di riallacciarle. Sono certa che quello sia mio padre. Ho sempre avuto ricordi di lui. Sin da bambina. Non ci sono foto di altri uomini da nessuna parte. Mia madre non mi ha mai parlato di nessun altro. Non avrebbe senso. Ci deve essere sotto qualcosa. O forse no. Secondo me dovresti controllare comunque. Hai cercato il cognome su Facebook? Certo che sì. È una delle prime cose che ho fatto. Ma hai idea di quanti la Russi esistano nel mondo? O anche solo nella mia città? Non è possibile contattarli tutti. E poi che cazzo gli chiedo? Ehi, ciao, sai per caso perché appena nata mi hanno registrato con il tuo cognome? Per caso ti sei fatto mia madre, che tu sappia. Chiara fa una smorfia, cercando di trattenere una risata leggermente fuori luogo. Lo apprezzo. Non sono sicura di voler ridere, ora. No, hai ragione, certo. Non hai notato somiglianze strane. Ma fa sul serio? Forse non è stata un'idea così buona confidarsi con lei. Certo, perché da una foto su Facebook riesco a capire se uno è o meno mio padre, controllando uno per uno tutti i 1421 profili che sono usciti. Chiara, ma ci sei o ci fai? Chiara spalanca la bocca. Sembra essersi offesa. Forse ho esagerato, ma al momento mi interessa poco. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti davvero. Ehi, non te la prendere con me. Non sono io ad averti detto delle cazzate. Sto solo vagliando delle ipotesi plausibili. Cosa ne vuoi che ne sappia di cosa succede nella testa di tua madre? Ora mi sento un po' in colpa. Voleva aiutarmi, sono io che le ho chiesto un parere. Sono io ad aver sbagliato. Hai ragione, scusa. Sono nervosa in questi giorni. Cambiamo argomento. Hai studiato per l'esame di domani? E so di aver fatto la domanda giusta. Perché Chiara si lancia in uno sproloquio senza fine sull'ultima lezione della prof, su quanto sia stata incompetente e su quanto lei ne sappia decisamente di più, lasciandomi il tempo di staccare il cervello e pensare a come diavolo sistemare tutto questo casino. Sapevo che avrei dovuto evitare l'argomento con lei. Avevo pensato più volte a una scusa da usare con Arianna, ma sapevo che comunque sarebbe stato tutto inutile. Avrebbe capito subito che le stavo mentendo. E soprattutto non mi andava. In quasi nove anni di amicizia non le avevo mai detto nemmeno una piccolissima bugia a fin di bene. Siamo sempre state sincere. Tranne quella volta che mi ero messa con Luca. Ma non era mica una bugia quella. Ho solo omesso di dirglielo. Per i primi giorni. Ok, per le prime settimane. Non sapevo nemmeno io il vero motivo per cui non ero riuscita a confidarglielo subito. Forse temevo di essere giudicata. Forse non volevo rovinare l'amicizia che c'era e c'è sempre stata fra noi tre. Oppure queste sono tutte balle che mi racconto, quando so benissimo che è molto più semplice di così. E ora sono qui, seduta sul letto a fissare una Arianna nervosa e indaffarata, che appena appreso che ho tardato per pranzo perché stavo passeggiando con l'amichetta Chiara, ha assunto un'espressione che avevo sperato di non vedere mai, cominciando a sistemare freneticamente le sue cose, come se non fossero già abbastanza in ordine. Potevi avvertire comunque. Io e Luca ti abbiamo aspettato un bel po'. So di dover usare bene le parole quando Arianna è in modalità preparati al peggio. Hai ragione, Ari. Scusa. Pensavo che oggi non ci foste a pranzo. Mi faccio perdonare e vi cucino qualcosa per cena. Vi va? Tento con estrema dolcezza. Ma Arianna mi serve un'espressione furbetta delle grandi occasioni. Quando fa quella faccia non c'è da aspettarsi nulla di buono. Non per me, almeno. Oh, non te la cavi così, signorina. Cosa credi? So io come puoi farti perdonare. Sabato in università c'è una festa. Oh, no, ti prego no. Io e Luca ci andiamo. Ma si può portare anche gente esterna. So che tu non ami questo tipo di serate. Ti prego tutto ma non questo. Laverò i piatti per una settimana. È l'unico modo che hai per farti perdonare. Prendere o lasciare. Se non accetti, puoi scordarti di dormire con me la prossima volta. caca sotto. Pago le prossime dieci spese. Venti spese. Tutte. Pago tutte le spese, ti prego. Arianna ha le braccia incrociate e un sopracciglio alzato. Andiamo a fare shopping domani pomeriggio. Non ci penso proprio a farti andare una festa in jeans e felpa, soprattutto se devi accompagnare me. Quindi, se devi vederti con qualcuno o qualcuna, sbrigati a spostare l'appuntamento. Sono disperata. Faccio il bucato di tutti per due mesi? Arianna è irremovibile. Prendere o lasciare? Per me è finita. Mi butto all'indietro sul letto, tenendomi la testa fra le mani. Ho commesso un errore e la sto per pagare cara. Prendo. Arianna è soddisfatta e si dirige verso la porta. Comunque ho visto dei video di Chiara su YouTube. Secondo me sapresti fare di meglio tu. Non è il tuo tipo. Subito dopo aver pronunciato queste parole, Arianna esce chiudendo la porta con forza. Forse devo farmi ancora perdonare. Ma che diavolo vuol dire che non è il mio tipo?